Cazzo io, se voi ho detto di non orzare in quel modo, se ce l'avevo un casino, dove cazzo andiamo adesso? Ho capito, adesso arriva Renato e si fa un casino, e là sotto Renato era giù in carteggio Cosa facciamo? Ho capito qua, facci le due anni a grandina sabbia, e qua? Che casino che è successo Andiamo su, spi? Andiamo fuori Cosa ci porta fuori? No, tenta, si, amara